Ci siamo, ci siamo, finalmente torna che si dice al martedì. Cambiamo del tutto la location, siamo al Dulin a due passi da Piazza Virgiliana, ma andiamo a vedere subito chi sono gli ospiti di oggi, partendo dal super ospite Francesco Galupini. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. E poi ovviamente l'addetto stampa del Mantua 1911, De Rosa. Buonasera Gianluca De Rosa. Ciao, ciao. E lì all'angolo il maestro Ernesto Valeri. Buonasera a tutti. Allora, partirei subito per far capire qual è il clima qua nel pub mantovano. Un bomber come Galupini, che cosa sceglie quando va al pub? Cioè che panino sceglie? Ma quando andiamo al pub sicuramente iniziamo uscendo la birra, il panino, però un panino semplice è una birra buona. A posto così. Presa ma è grana. Ci dai il microfono, io lo faccio al desto. Io faccio quello che va sul calcio un po', no? Rispetto ai due scudieri, utilizzo un tuo termine Ale. Se guardiamo il tuo curriculum, che oramai comincia a essere lungo, visto che gli anni passano, hai alternato, in maniera anche quasi curiosa, no? Grandi piazze, pressanti e pesanti, Mantua, Piacenza, ha piazze più piccoline, Renate, Ciliverghe e in un ruolo, in un altro, infatti mi autolancio la domanda di dopo, hai sempre fatto bene. Però se io fossi stato un calciatore, per fortuna non lo sono stato, avrei sempre voluto giocare in grandi piazze, pur tenendomi addosso, pressione, tutto quello che può essere, può portare una grande città. Volevo chiedere a te invece come è stata la differenza di approccio, anche adesso con l'esperienza attuale di Mantua, tra una grande città, una grande curva, una grande piazza, una grande presenza di tifo, e invece in realtà più contenute, più piccoline come quelle citate prima. Ma diciamo che nelle due grandi piazze, una è diciamo che metto soprattutto Mantua e Piacenza, come dicevi tu, a Piacenza è stato solo un anno, dobbiamo essere di più, speravo forse solo di più, però ho vinto un campionato, ho fatto bene e quest'anno Mantua è iniziata bene, è stato andato bene, quindi ti dico che oggi, magari non essendo troppo scaravanti, io dico che stiamo facendo bene, dove ho avuto delle pressioni, dove ho avuto una piazza calorosa e mi sento a mio agio. D'altra parte le piazze piccole ti danno qualcosa di diverso, ti tolgono qualcosa la domenica, ma ti danno qualcosa durante la settimana, perché gli stimoli vengono dalle parti esterne, quindi magari dal presidente, dal direttore, così, e devi autocreateli, la settimana è più tranquilla, però la domenica devi tirar fuori qualcosa di tuo, e invece nelle grandi piazze la partita si prepara da sola, domenica ti aspettano 5, 6, 7 mila persone allo stadio, sai che la prestazione è da fare, caratterialmente devi tirar fuori qualcosa, sono due cose diverse, due preparazioni diverse, ad oggi ti dico che giocare qui mi sta dando tanto, mi sta facendo crescere come persona, ti fa tirar fuori qualcosa come emozioni che difficilmente trovi nelle altre piazze, mi ricordo che appena iniziato la partita col Padova volevo la bocca asciutta subito, ero un po' teso, però vedere una curva così, una piazza così, uno stadio pieno, era qualcosa di incredibile. Io invece vado sui numeri, lasciamo un attimo da parte il calcio, andiamo fuori dal campo, il numero 14 è il numero 30, il numero 14 è il numero della tua maglia, io ho questa immagine, hai citato il Padova, ce l'hai anche come sfondo su Whatsapp, che è una fotografia che mi ricordo, che è un'immagine che mi ricordo, perché è stata poi anche una mia prima partita in campionato qui, di questa esultanza con la maglia numero 14, insomma sventolata, e poi il 30, perché pochi giorni fa, insomma il 17 di ottobre, hai fatto 30 anni, quindi è anche un momento di crescita tua in un posto come Mantua, ma insomma ecco, perché il 14 e che significa per te in questo momento 30? Ma a parte che col Padova ho sbagliato, mi sono tolto la maglia dopo 10 minuti, ma è stato qualcosa di incredibile, il ministro ci aveva detto lasciatevi andare le emozioni e mi sono lasciato andare, forse ho ancora un po' di pelle d'occa quando penso a quel gol, sono le cose che il calcio probabilmente ti dà, e niente nella vita, a parte magari cose familiari ti potranno dare. Il 14 perché venivo dalla 7 di Ravenna, sono arrivato a Renate, che il capitano storico aveva la 7, allora siccome Cruif mi è sempre piaciuto, l'ho sempre visto come calcio moderno e così, ho detto che la 10 non mi piaceva perché secondo me è un qualcosa di... bisogna sentirsi lì addosso i numeri, parlo sempre io... parlo poco di calcio, parlo tanto di emozioni, di sentimenti, di un qualcosa di diverso, e il 14 era quella cosa che mi faceva in quel momento sentire, emozionare, distinguere da un qualcosa che mi faceva sentire importante, e quindi la 14 è dedicata a questo, non è un numero, non è un qualcosa, è quasi uno stile di vita, uno stile in campo, non so, è qualcosa di particolare che bisogna sentirsi addosso, e bisognerebbe raccontarlo magari un po' più a lungo perché sono cose belle, sono cose che ti dice il campo, e quindi ho scelto il numero per questo, 30 perché sono gli anni che ho compiuto, è un qualcosa di diverso, è una maturità diversa, me l'ha chiesto il direttore inizio anno, me lo chiede il mister in tutti gli allenamenti, cambia qualcosa all'interno dello spogliatoio, diventi un simbolo, diventi un riferimento, e bisogna anche capirlo, è una transizione che sto cercando di fare, bisogna sempre migliorare, non siamo mai arrivati, e quindi devo portarmi dentro queste cose, sempre con la leggerezza che dicevo prima, di emozioni, di sentimenti, e non è facile. Partenza a Razzo in campionato, adesso lasciamo stare la classifica, è tutto il discorso, però come stai vivendo questi primi mesi mantovani, e cosa ti aspetti per il proseguo, a parte ovviamente il sogno? Ma i primi mesi mantovani sicuramente è stato qualcosa di speciale, è qualcosa di inaspettato, qualcosa però di stupendo, stiamo creando qualcosa di unico con la piazza, la società, i tifosi, il presidente, chiunque, sembriamo una cosa sola, e questo ci deve rendere orgogliosi. Dal futuro ci aspettiamo di continuare così, ma quello che cerchiamo noi, la squadra e lo staff è l'atteggiamento, con quello poi può avvenire tutto, e a oggi la piazza ci riconosce questo, non ci riconosce risultati, non ci riconosce vittorie, sconfitte, noi stavamo aprendo col Novara, io sono uscito, e la curva era ancora a mille all'ora, a cantare per noi, ma perché ci riconosce un qualcosa, probabilmente di diverso, rispetto alla freddezza degli anni passati. Sto l'assist che mi hai fatto prima sul calcio moderno, sul gioco moderno, per me in Galoppini resta sempre una quota, io l'ho conosciuto tanti anni fa, quando era una delle quote ambite nella Lega Pro, e mi ricordo che più di una volta, quando si andava a parlare di potenziali arrivi, di quello che si poteva andare a pescare sul mercato, quando arrivava il suo turno, ognuno degli attori presenti in discussione, ma per me è una seconda punta, ma no, per me è un esterno, ma secondo me è un trequartista, era forse ai tempi già l'unico giocatore che era incollocabile, non riuscivamo a trovare l'accordo su quello che era, non ha presente le figurine, una volta si scriveva mezzala, terzino destro, eccetera, bisognava metterci una X, e in qualche modo secondo me è una, sei stato nelle categorie che hai vissuto, un precursore di tanti giocatori moderni, dove è difficile, per fortuna o purtroppo, poi me lo direi tu, trovare una collocazione. Tu ad oggi come ti vedi e come ti vedevi qualche anno fa? C'è stato un percorso evolutivo in tal senso? Ma diciamo che la differenza sostanziale è arrivata da una mia partenza da prima punta, poi tecnicamente, essendo un giocatore valdo, sono sempre stato arretrato, ma dico che la differenza secondo me la fanno sempre gli allenatori, e le idee, non i moduli, non i ruoli, e l'unica cosa che non mi vedo è sinceramente giocare largo sulla linea, ho voglia di toccare la palla, ho voglia di giocare al centro, nel gioco, l'altro giorno c'era una discussione con il secondo del mister, dove io dicevo falso 9, lui diceva play, quindi dalla metà campo in su probabilmente può essere ovunque, e ci vogliono i concetti prima dei moduli, e è ovvio che mi piace toccare il pallone, a volte rompo le scatole, si può dire, perché lo voglio sempre nei piedi, ho voglia di giocare, ho voglia di impostare, ho voglia di determinare, il ruolo oggi non è chiaro, perché in ogni modulo, in ogni concetto dell'allenatore, perché Diana lavorava negli spazi, e mi diceva, vai a prenderti gli spazi di cui hai bisogno, il mister lavora in altri concetti, e mi dice, stai lì, ci sono delle posizioni, sono interscambiabili, vai a prenderti le altre posizioni, e magari adeguatevi di conseguenza, a quello che succede in giro, mi piace, te lo ho detto, stare dentro il campo, e venire a divertirmi un pochettino. La domanda, un'altra te la faccio io, io vado sempre fuori dal campo, perché poi sono curioso, ti abbiamo visto andare a pesca, insieme a Suagher, a festa, questo è un po' lo spunto, per dire, a pescare, per dire, quelle che sono, un po' le tue passioni fuori dal campo, se questa della pesca, è come dire, una novità, e poi, attenzione, c'è qualcuno che vuole fare una domanda, in questo momento, attenzione, abbiamo una, sono un fuori onda, in realtà, allora, io gli stavo chiedendo, se la pesca, il fatto che siete andati a pescare insieme, è una sua passione, fuori dal campo, non so, magari se tu gli vuoi chiedere qualcosa, se sei un bravo pescatore o meno, visto che tu eri con lui. Pescare non è capace, ti dico solo questa, forse è un pochettino, è arrivato il bandone su Hager, è qui. Diciamo che a pescare è meglio festa, devo essere sincero, però vorrei capire una cosa da Galo, ma, veramente te lo senti tu il gol con l'Alessandria? Ma, ho visto gol più scandalosi i dati, sinceramente, e adesso questa qua, sarà una cosa da analizzare bene, però, per un attaccante così, il gol è sempre mio, è come se tu devi una palla che tira, non dici autogol, dici gol dell'attaccante, quindi, ti rigiro la domanda e ti dico che, è un bel gol quello. E poi, la pesca, non è un hobby, ma ti fa capire la forza di quello che siamo quest'anno, è che io su Hager e Festa veniamo giù tutti i giorni insieme, è una grande passione di sugo, quel giorno lì avevamo un giorno libero, e io e Marco l'abbiamo raggiunto nella sua passione, e stiamo diventando un qualcosa di unico, e ci sta lasciando sempre qualcosa, anche quando torniamo a casa, ci abbiamo sempre degli aneddoti, le famiglie si stanno conoscendo meglio, siamo spesso a cena, e quindi, fa capire veramente cosa stiamo creando quest'anno a Mantua. C'era un'altra cosa che ti potevo chiedere, riguarda questo tuo spaccato giovanile, l'esperienza della Sampdoria, hai giocato con Maurito Icardi, c'è una curiosità che ti riporta? Attenzione! Lasciamolo andare, lasciamo la sua Icardi o lo lasciamo? Ma, diciamo che è arrivato a gennaio dal Barcellona, e subito dopo è arrivato il torneo di via, e lì ha dimostrato subito di che pasta fosse fatto, era un giocatore che un pallone, un gol, non si vedeva tanto durante le partite, però si era già capito che era un giocatore devastante dentro l'area, mi ha sorpreso sinceramente che sia arrivato a quel livello lì, perché non era ancora probabilmente così maturo, però credo che arrivare a quei livelli vuol dire che qualcosa di, devi essere un extraterrestre, io dico, e quindi è stato veramente incredibile giocare con un giocatore del genere, ricordo ancora tanti allenamenti, tante partite, però veramente c'è un qualcosa in area che nessuno, probabilmente oggi è paragonabile a Alland, si è perso un po' per strada per vicende extracalcistiche, però credo che sia veramente un giocatore devastante. Allora, siamo in chiusura, intanto rientra Ernesto Valerio, che ha lasciato il posto a Swagger, a questo punto non mi piace che ringraziare il Gallupini, ecco, la piccola curiosità sul nome di Instagram, Gallupata, ecco, è una Gallupata o cos'è? No, la Gallupata è un soprannome che nasce a Piacenza, da un compagno di squadre, da lì è nato un po' tutto, sono diventato la Gallupata e lì ormai da lì in poi è spopolato, ovunque vada mi chiamo la Gallupata, anche qua a Mantua, non è niente di che, era tipo un soprannome, però dai, mi piace anche a casa, tante volte anche la mia ragazza che presto diventerà mia moglie o degli amici, mi chiamano la Gallupata così e ormai è una cosa carina, simpatica, però è una cosa che apprezzo, sono riconosciuto in giro ormai così. Allora, grazie a Gallupini in Gallupata, Ernesto Valerio, grazie a te, De Rosa per il supporto fondamentale, per far sì che si dice al martelli avvenga, ricordiamo, domenica pomeriggio, la Pergolettese, nuovo avversario del Mantua e quindi buona fortuna e forza Mantua. Grazie di averci seguito. Grazie a tutti.